Balla di Ica del Bosco e l'undicesima giornata del campionato di Serie A2 femminile La Crovelli di Ica del Bosco ospita la capolista, siamo Energia Orna Basco Contenuta però la rigiocata per Claude e Mani Out di Desiree Claude Fai parte da Belfiore e il muro è vincente, da parte di Moneta e allora è 25-21 Arna Basco La Crovelli di Belfiore è vincente Ora si va da Claude, gran parallela di Desiree Claude, mamma mia Flotta, Giaccare Ghilardi, Arrival Ace Alla servizio di Ness, alto Ace ancora, chiarico Di Sacche Muro, di Desiree Claude Questa volta su Giulia Montrari, buona la sua risposta, si va dietro, da Claude La difende in qualche modo, ma il punto è di Desiree Claude Va dietro da Arrico, vincente, la buona Arrico Parte rosa, richiestione, buona questa volta, si va dietro, da Loda contenuta Attenzione, la palla che non può attaccare, però Cirilli è ancora rigiocata Un picco di compressione, ora si va in banda, non passa Milati E vince la Crovelli, 27-25 2-25 2-25 3-25 3-25 3-25 4-25 5-25 6-25 6-25 6-25 3-25